Gentili telespettatori, buona giornata. Di nuovo Salvini convoca il vertice con Draghi. Lui Draghi è l'alamorgese perché Salvini vorrebbe spiegare all'alamorgese e a Draghi come si fa il ministro dell'interno. Salvini dovrebbe proporre a Draghi di fare lui il ministro dell'interno, visto che ha un colloquio settimanale dovrebbe dire scusi, io sono un esponente, sono il capo della Lega, la Lega è dentro il governo, abbiamo tre ministri, guardi, ci tolga un ministero e mi dia direttamente a me quello dell'interno così vi faccio vedere io come si fa. questo lavoro. E diciamo che lui su questo aveva una certa attitudine. Proprio su quello ha costruito gran parte dei consensi arrivati anche al 38%, come diceva qualcuno di voi ieri. Naturalmente un Salvini ministro dell'interno scatenerebbe un putiferio a sinistra. Proprio l'altro giorno lui è andato per un'udienza. Draghi non si può permettere di mettere Salvini al ministero dell'interno adesso perché gli rovinerebbe la vita politica. verrebbe fuori un putiferio dalla mattina alla sera. Immaginatevi Salvini che tutti i giorni ferma le navi, le lascia lì e i giudici che salgono sulle navi e vanno a verificare, partono le inchieste della procura. sarebbe un teatro, un teatro incredibile. però gli sbarchi addirittura sono gli sbarchi di persone senza documenti sono arrivati a ben 52.000 e mancano ancora diverse settimane per la fine dell'anno. Quindi Salvini sollecita un incontro chiarificatore a tre. Quando, dal Viminale trapela che è solo questione di programmazione, il confronto si svolgerà non appena lo permetterà l'agenda del Premier. Ma il Premier non vuole incontrare Lamorgese Salvini perché, per un semplice motivo, la Lamorgese è stata lasciata lì per non fare nulla. Qualsiasi cosa lui deve, lei deve riferire a Draghi e Draghi eventualmente prendere delle decisioni. E la Lamorgese l'ha fatto anche capire a Salvini, io riferisco a Draghi, come dire, dovresti parlarne con lui piuttosto che parlare con me. In effetti con tutte le... Visto che ha un incontro settimanale con Draghi, Salvini, perché non chiede direttamente a lui, dimmi l'ora, il giorno, dai, domani mattina, alle otto, alle nove, alle sette e mezzo, c'ho impegni di lavoro, facciamo alle sette del mattino. Facciamo alle sette del mattino, ci troviamo da qualche parte e parliamo. Alla fine l'agenda di lavoro, se tu vuoi, un posto lo trovi. Sempre. Quando non vuoi, tiri fuori l'agenda del premier. Dici, ma non telefoni? Eh, c'è un sacco di cose da fare. Così, come riporta la stampa, i numeri confermano che siamo in piena fase di emergenza sbarchi, anche se solo sporadicamente la stampa ne parla. La rotta preferita ultimamente è quella orientale, prevalentemente dalla Turchia, mentre da qui in passato provenivano piccole imbarcazioni. Attualmente si assiste all'arrivo di pescherecci con oltre 300 persone a bordo. Ieri, a causa del maltempo, non si sono registrati sbarchi, ma nei due giorni precedenti tra Calabria e Sicilia sono giunte 1097 persone, mentre altre 367 sono in attesa sulla Geo Barents di Medici Senza Frontiere. Ci sono anche nuove navi, eh, che impareremmo a conoscere con il tempo. E così, Salvini chiede ancora l'incontro. Come vi dicevo, i numeri sono 52.665 contro 26.915, cioè il doppio del 2020 che il 2020 era il 500% in più del 2019. Allora, nel 2019 gli sbarchi sono stati 5.000. Quando c'era Salvini, fino a metà anno, sono stati 5.000. Se ci fosse stato Salvini tutto l'anno, non sarebbero stati 5.000, ma magari 2.500, perché con l'arrivo della Lamorgese, a metà del 2019, gli sbarchi erano aumentati del 300% rispetto alla prima parte dell'anno. Quindi dai 5.000 sbarchi del 2019, dove Salvini ha lavorato solo mezzo anno, si è passati ai 26.000 dell'anno dopo, praticamente 27.000, e ai 52.000 del 2021. Se fate 52.665 diviso 5.000, vi accorgerete che gli sbarchi sono decuplicati. Cosa vuol dire decuplicati? Dieci volte di più. Da 5.000 a 52.000 è oltre dieci volte di più. Un aumento del 10.000%, o no? Eh sì. No, un aumento del... Cosa sto dicendo del 10.000? Un aumento del 1.000%. 100.000. 1.000. 1.000. Naturalmente dice, ma adesso queste 50.000 persone come li manterremo? Cosa gli facciamo fare? Abbiamo una disoccupazione al 10%. Che facciamo con 52.000 arrivi? Questa è anche una domanda intelligente. Bene, dal Viminale precisano che i ministri Lamorgese e Soilu della Repubblica di Turchia hanno concordato l'agenda di un incontro bilaterale in presenza che si svolgerà prossimamente a Roma con una specifica attenzione anche alla prevenzione dei flussi migratori irregolari. Vi amare. Beh, io vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti qui su Teleitalia. Ricordatevi che nella community trovate anche sondaggi, altri video, i link che vi rimandano all'altro canale di YouTube che si chiama Teleitalia Seconda Rete. Mentre in Facebook trovate la pagina che si chiama Teleitalia dove ci sono tutti questi video di YouTube condivisi dopo qualche ora. Arrivederci a tutti e grazie. Grazie. Grazie a tutti.